E' tutto vero, un canale colorato di rosso nero dove è tutto vero Zero fake news, la voce sincera che c'è su Youtube Siamo una fonte verificata, è questa la vera ficata Qui parliamo solamente della prima squadra di Milano Iscriviti, iscrivici, quello che pensi, mettiamo un cuore ai migliori commenti Amici della Voce del Diavolo e del canale Youtube Milanello, ben ritrovati Abbiamo diversi argomenti, quindi facciamo veloci Tre argomenti Milan, ovviamente Poi la partita Juventus-Porto E infine il grande gioco dell'Inter che in questo momento è in testa della classifica Milan bella, bella, bella ed importante vittoria col Verona Verona a campo difficile per noi storicamente Ma quest'anno particolarmente difficile per la squadra di Juric Giocare lì Il Milan ha giocato molto bene Non ha fatto praticamente giocare il Verona Ma le lingue dicono che il Verona non è sceso in campo Non lo so, non credo Io penso che il Milan invece sia stato pioli Sia stato molto intelligente Perché non ha, come ha fatto in precedenza Ha fatto giocare dei giocatori bravi Più bravi probabilmente, sicuramente Di quelli che ha messo in campo Però non al 100% della forma fisica Gli unici giocatori in campo erano tutti in forma fisica Quindi si è rivisto il Milan di corsa Il Milan di raddoppio Il Milan che ci aiuta Tutto questo con un Che sì, monumentale E un Calabria Veramente al solito quest'anno Molto molto bravo E devo dire che abbiamo vinto facilmente Abbiamo vinto anche grazie a due prodezze Però obiettivamente non abbiamo mai rischiato In questa partita Il gol di Krunic è una perla Una punizione bellissima Tirata volutamente lì Non so se il gol di Dalot Sia stato altrettanto voluto Lui fa una finta Mette a sedere due giocatori del Verona Poi piazza un pallone di collo pieno Esattamente all'incrocio Un gol alla Ronaldo Alla Ronaldo vero Alla Ronaldo quello che giocava nell'Inter E nel Milan E auguro a Dalot Di fare ancora altri gol Di questa fattura Perché è un gol Veramente bellissimo Comunque una partita Molto importante E che ci ha visto Nettamente e chiaramente Chiaramente vincitori Adesso andiamo a giocare a Manchester Giocheremo praticamente Con la stessa squadra Perché la sfortuna continua Theo Hernandez Ha preso un colpo Ha anche problemi intestinali Ciaranoglu Rebic non recuperano Ben Nasser Non recuperano Giocheremo con una squadra Un po' rabberciata Però speriamo di fare Correre E di fare una bella figura A Manchester Anche se almeno Personalmente Non dico che non mi interessa Questa partita Perché è una partita di cartello Molto importante A noi evoca ricordi stupendi Ma per me è molto più importante La partita che ci sarà Domenica prossima Abbiamo tutti visto la partita Tra Juventus e Porto E qui necessita un commento Un commento Io devo dire Per essere obiettivo Che nelle due partite La Juve avrebbe meritato Di passare il turno Secondo me Non c'è dubbio Sono state decisioni arbitrali Un po' strane A Porto E anche ieri Un rigore clamoroso Del portiere che esce Su Ronaldo Secondo me Era un rigore Nettissimo Fatto sta però Che la Juve Non ha Non ha Usufruito Non è riuscita a sfruttare Il vantaggio numerico Perché è una pazzia Di un giocatore del Porto Che si è fatto espellere In primo tempo Ha dominato Praticamente Il Porto Poi si è avuto Le occasioni Un'ottima chiesa Però altrettanto Un Ronaldo Totalmente involuto Totalmente assente Un Ronaldo Che ricordo a tutti Guadagna 31 milioni Netti l'anno Quindi vuol dire Mai contati Che ogni Ogni mese Il Il Cassiere Il Il Ragioniere Della Juventus Ogni mese Deve fare Un bel assegnino Un bonifico Di più di 5 milioni Lordi Per pagare Lo stipendio Di questo Campione O ex Campione Vediamo Fatto sta che La Juve Sono tre anni Che usufruisce Delle prestazioni Di Ronaldo Un anno È uscita Ai quarti Contro L'Ajax L'anno scorso È uscita Agli ottavi Con Lione Quest'anno Esce agli ottavi Con Il Porto Devo dire Che non sono contento Non sono contento Perché non me la sono goduta Obiettivamente Sarà un po' Di sadismo Ma Io godo Immensamente Vedere la Juve In semifinale O in finale E perdere È un'adrenalina Molto forte Purtroppo La Juve In questi tre anni Mi ha tolto Questo piacere Volevo dire Un'ultima parola Per gli amici Juventini Non vi preoccupate Comunque Non vi preoccupate Perché è vero Che sono 24 anni Che non vincete La Champions Però avete ancora Tempo L'Inter Ha aspettato 50 anni 50 anni Per vincere Nuovamente La Champions Quindi voi avete Ancora 25 anni Almeno Per fare meglio Meglio Degli interisti Quindi non vi preoccupate E cercate di dimenticarvi Di questo incubo Certo Un incubo Che negli anni È stato molto Aumentato Dalle 5 Champions Vinto dal Milan Vabbè Dovete Dovete accettarlo Non c'è niente da fare A livello locale Fate abbastanza bene Devo dire A livello europeo Si sa Che non l'avete Non l'avete Nel DNA Mi spiace Volevo chiudere Questo intervento Con una piccola chiosa Sull'Inter Si è detto L'Inter ha vinto Ma ha messo in campo Contro l'Atalanta Un pullman Io Ho sintetizzato La partita In questo modo L'Atalanta È più forte E gioca a meno Dell'Inter L'Inter Però Ha meritato La vittoria Sembra una contraddizione Ma non lo è L'Atalanta È più squadra Giocano tutti i giocatori L'Inter No L'Inter Ha un gioco Semplicissimo Quasi banale Lo ha detto anche Vesino È stato molto Onesto Vesino Al massimo Fanno qualche apertura Sulla destra Per Achimi Che scende E comunque Passa sempre la palla A Lukaku Questo è il gioco Dell'Inter È vietato? No È bello? No Per niente Merita quindi Conte Chissà quali Complimenti? No Però È un gioco efficace Finché In Italia Nessuno riesce A contenere La potenza fisica Di Lukaku Lukaku È un giocatore Dell'Inter Non so se l'hanno pagato Non credo proprio Che gli pagano Gli stipendi Però Fino quando qualcuno Non arriva E lo porta via È un giocatore Dell'Inter E quindi L'Inter Vince Questo È un È un dato di fatto Non ne sono contento Però È il discorso Del livello Del campionato italiano Se ci pensate L'Inter Appena andata In Champions Ha fatto figuracce Per due anni consecutivi Che fa figuracce Che esce nel girone Eliminatorio Quest'anno Addirittura È arrivata Quarta Su quattro In un girone Scarso Addirittura Prima ancora Dell'Inter È arrivato Lo Shakhtar Quindi Buon Buon per l'Inter Buon per i tifosi Interisti Il discorso Del Pullman Per me Per me Milanista Da sempre Il calcio È tutta un'altra cosa Il calcio È gioco Il calcio È giocatori Di fantasia Quando vedo Perisic E lo stesso Eriksen Fare i terzini Perché l'Inter Giocano tutti E dieci Dietro la linea Della palla A parte Lukaku Quindi Non rischiano niente Gol Non ne prendono Poi ci pensa O Lukaku A fare gol O a passare la palla Oppure Come è stato Il caso Con l'Atalanta Una mischia In aria Su un corner Nel gol Di Scrian Questo è l'Inter Piace così Comunque Probabilmente Vinceranno lo scudetto Sicuramente Non mi preoccupano In chiave europea Quando andranno Anche l'anno prossimo In Champions Faranno sicuramente La stessa figura Che hanno fatto In questi In questi anni Perché con quel gioco Lì Non vai da nessuna parte Un caro saluto A tutti E ci vediamo Dopo la partita Di Manchester Grazie